ciao sono stefano molinari vi aspetto alle 18 su radio radio mi domanderete come sono fatto io meglio non saperlo mi sa vabbè vi faccio vedere attenzione attenzione vabbè comunque la trasmissione è molto più interessante di quanto non sia io vi aspetto su radio 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 mi raccomando alle 18 lavori in corso faccio vedere un po di radio casomai aspetta dunque ecco qua questa vedete la regia video state entrando nel backstage di radio radio sta andando in onda la pubblicità eccolo qua questo è francesco stiamo andando verso la regia audio attenzione questo sono video esclusivo qua di radio radio se avete dei precedenti penali non fatevi vedere lei ha dei precedenti penali non ancora vuole essere dei nostri perché ha letto tutte la diretta in questo momento ha visto le situazioni e ha capito che il fondo garanzia salute è veramente la cosa ideale se lo riescono se passa questo concetto molto più interessante di quanto lo sia attenzione lei ha precedenti penali ancora non ha perfetto pulito a fedi la penale pulita finiamo il virtual tour che poi virtual non è nemmeno tanto qua su radio radio in questo momento ripartiamo da dove abbiamo iniziato o io vi aspetto perché questa è l'inaugurazione del canale youtube proprio di stefano molinari radio radio alla prossima